Il caporelato è ancora molto diffuso in Italia e dopo i fatti di Gela dei giorni scorsi la deputata del Movimento 5 Stelle, Azzurra Cancelleri, presenta un'interrogazione parlamentare al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministro della Giustizia, al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in cui propone di implementare i meccanismi che proteggano i lavoratori dopo le denunce. I recenti fatti di sfruttamento del lavoro avvenuti nelle campagne gelesi dimostrano che la piaga del caporelato persiste, a volte sfociando in epiloghi tragici. Quindi ho interrogato i ministri competenti per chiedere che vengano attuati in maniera decisa e capillare tutti quei meccanismi che proteggono i lavoratori subito dopo la loro denuncia. E anche di implementare gli strumenti preventivi, magari attuando le priorità di intervento fissate nel piano triennale 2020-2022 sul caporelato, individuate nel tavolo tecnico istituito presso i ministeri competenti. L'ultimo episodio nell'entroterra siciliano ha riguardato 20 braccianti sfruttati a 5 euro l'ora da due imprenditori niscemesi in un'azienda agricola del piano Stella di Gela, scoperti dalla Polizia di Stato in collaborazione con il personale specializzato dell'Inps e dell'Ispettorato del Lavoro nel corso dei controlli contro il caporalato. La fisionomia del fenomeno vede il caporale fare da intermediario. Reclutare e organizzare la manodopera il più delle volte si tratta di persone appartenenti a fasce deboli e disagiate, quindi poveri ed extracomunitari, lavoratori che dopo ore nei campi resteranno con pochi euro in tasca e nella maggior parte dei casi nessuno dei diritti previsti dalla legge.